Gentili telespettatori, buona giornata. Rassegna stampa di oggi, sabato 9 novembre 2024, Corriere della Sera. Parte con Trump il piano per l'Ucraina e il ruolo di Musk. I contatti con Zelensky, l'FBI, l'Iran voleva far fuori il Tycoon. Europa sfida sulla difesa, scontro Meloni, Schlein. E poi vediamo l'assalto ai tifosi israeliani in Olanda, shock e sdegno. E adesso vediamo in alto il presidente Mattarella in Cina, a ritorni anacronistici di blocchi contrapposti. Andiamo adesso a vedere la Repubblica. La notte di Amsterdam. Gruppi di giovani filopalestinesi aggrediscono i tifosi del Maccabi Tel Aviv dopo la partita con l'Ajax. Netanyahu apre un ponte aereo per riportare a casa i connazionali e accusa. L'Olanda si scusa con Israele, vergognoso ma ai tempi come ai tempi della Shoah. Telefonata Trump-Zelesky, presente anche Musk. E vediamo adesso di passare alla stampa. E sempre si parla, si inizia con Amsterdam, agguati ai tifosi del Tel Aviv. E poi l'Item Meloni-Schlein sui diritti sindacali, Salvini lo sciopero boicotta il paese. In realtà la Meloni ha semplicemente fatto una battuta in una trasmissione comica un giorno da pecora dove ha detto non sto bene ma vado a lavorare lo stesso, non ho particolari tutele sindacali. E' bastato dire questo che la sinistra evidentemente a corto di argomenti ha montato su tutta una polemica della Meloni che umilia i lavoratori, offende i lavoratori, vuole cancellare i sindacati. Insomma, anche la Meloni ha risposto questa è una vera e propria sciocchezza, parlate di cose serie. Ma vediamo la pace di Trump. Non svendo Kiev, telefonata del Tay con Azelewski sul piano ancora armi in cambio di una parte dei territori a Putin. Draghi serve una scossa per proteggere la Unione Europea dagli USA, la Premier flessibilità sulle spese militari. E poi intervista a Fabio Fazio Ora ristampo i volumi d'arte Io tra libri e cioccolato. Andiamo adesso a vedere la polemica Kashmir e Caviale slogan da quattro soldi. Quindi la Meloni che ha detto che questa è una sinistra da caviale diventa uno slogan da quattro soldi sul giornale fiancheggiatore della sinistra. Andiamo adesso a vedere Ah, vediamo qua, abbiamo dimenticato Massimo Cacciari Non ha vinto Donald, ha perso la sinistra Questa è la solita storiella della sinistra Non è che vincono gli altri Siamo noi che perdiamo Che lasciamo vincere gli altri Andiamo avanti e vediamo il resto del Carlino Il resto del Carlino è ancora quello di venerdì Quindi passiamo E quindi passiamo al Al successivo Abbiate un po' di pazienza Perché si è Si è bloccato Passiamo al fatto quotidiano Draghi chiama le armi La destra frena più del PD Ma evidentemente non è assolutamente vero Questo titolo Euro elmetti Il banchiere sprona la UE I soldi per il 2% del PIL Si trovano Che cosa è successo? Che adesso che è tornato su Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump Aveva già anche detto Noi non siamo i vostri protettori Dovete cavarvela anche da soli Aumentate le spese del PIL Almeno il 2% Ma l'Italia e l'Europa Hanno sempre creduto Che alla fine c'era l'America A difendere l'Europa Quindi Draghi dice adesso Che le cose Di nuovo Ci riportano a 4 anni fa Bisogna che l'Europa Si difenda da solo Quindi c'è bisogno Di una difesa comunitaria Mentre il Fatto Quotidiano Invece Evidentemente Per motivi politico Elettorali Propagandistici Fa questi titoli Immaginando che Draghi Con l'elmetto Voglia fare chissà che cosa Ma sono Praticamente Delle sciocchezze di propaganda Andiamo a vedere adesso Il messaggero Italia Impressing Che sull'Unione Europea Finanziare la difesa Che cosa ha detto La Meloni Per raggiungere il 2% Del PIL Ci mancano 10 miliardi Bisognerebbe essere Più flessibili Sul patto di stabilità Andiamo adesso A vedere Amsterdam Lo shock Della caccia Ai tifosi Del Tel Aviv Turnover degli statali Verso lo sblocco Per polizia E comunali Ma andiamo a vedere La verità La Schlein Ridotta all'olio di ricino Sì In realtà In questi giorni Vi ho parlato Della Schlein Che Adesso Parla di olio di ricino Insomma Non sa veramente Come si dice Che pesci pigliare Il PD Non ha imparato nulla Dalle sconfitte A ripetizione Surreale polemica Per una battuta Della Meloni Sulle tutele sindacali La segretaria Con l'armocromista Prima ci tiene A far sapere Di non aver mai mangiato caviale Poi evoca Il ritorno Del fascismo Una sfida Ridicolo Proprio mentre Landini Incita Alla rivolta sociale Contro il governo Il capo della CGL Blocca l'aumento A 560.000 lavoratori Lo sciopero del venerdì Ora è selvaggio E Mattarella Corre a lisciare La via della seta Di Xi Jinping E poi Vediamo Libertà di parola Ma il Raimo Chefrigna È lo stesso Che faceva Liste di proscrizione Sì È proprio lo stesso E poi Dalla sanità All walk L'America Secondo Trump Prime mosse Del presidente eletto Chiama Zelesky Con Musk E progetta Una rivoluzione Conservatrice Così vuol smontare Il delirio Gender In scuole Sport Ed esercito E si scaldano La Dapo E Robert Kennedy Andiamo adesso A vedere Il giornale Meloni e Draghi Così con Trump Possiamo crescere L'America e noi A Budapest I due leader Mostrano all'Unione Europea La potenzialità Del nuovo corso E il piano Musk Donald Alla fine Musk è diventato Ufficiosamente Praticamente Il vicepresidente Perché Donald Lo ha sempre a fianco Addirittura Fanno le telefonate Insieme Immaginatevi Una cosa Che non era mai Successo prima Ma credo Che Musk Possa comunque Portare E mitigare Anche un po' Le scelte Di Donald Trump Andiamo a vedere Adesso Libero Quotidiano Il PD Va di traverso Il caviale Piagnisteo Infinito Meloni Attacca I diritti sindacali Li difendo più Io della sinistra Schicca E cita il cibo simbolo Dei salotti democratici I compagni si offendono Schlein No a purghe Con l'olio di ricino E poi vediamo Qui a centro pagina L'incitatore Di rivolte Contro il governo Lo sciopero Di Lantini E l'incubo Di chi lavora Paese nel caos Per la protesta Faziosa Ideologica Propagandistica Del leader Della CGL Che sogna Di prendere Il posto Di Elena Che si fa chiamare Ellie Pure Draghi Zittisce I guffi Anti-Trump Di Sandro Iacometti E Masch Che è futurista Per questo piace A destra Andiamo a vedere Se per caso È pronto il tempo Se è in tempo Oggi No Non è in tempo È in ritardo Grazie a tutti E arrivederci a presto E' in tempo Grazie.